Ci sono ben 8 milioni di euro sul tavolo e la regione Abruzzo rischia di rimandarli al mittente perché è incapace di intercettare progetti utili da finanziare. Il mittente, in questo caso il governo, poiché i fondi sono quelli messi a disposizione dal Piano Proteggi Italia, la manovra voluta dal Movimento 5 Stelle partita durante il governo Conte con l'obiettivo di contrastare il rischio idrogeologico, avviare un risanamento ambientale e la difesa del suolo. Ma nonostante le risorse a disposizione, oggi sembra che nella nostra regione sia tutto fermo. Il rischio di vedere persa anche questa opportunità per l'Abruzzo sembra più concreto che mai. Ad affermarlo è il vicepresidente della terza Commissione Agricoltura e Attività Produttive della regione Abruzzo, Giorgio Fedele. Purtroppo il rischio è più che fondato, c'è una vera e propria spada di Damocle su tutto il nostro territorio. Il Ministero, anche attraverso interlocuzioni che ho portato avanti io in prima persona, ha dato un termine di dilazione che scadrà a fine ottobre. Se entro la fine di ottobre in Regione Abruzzo, che è l'unica regione fra quelle italiane a non aver presentato neanche un progetto, pur essendo destinataria di oltre 8 milioni di euro per dissesto idrogeologico e difesa del suolo, non presenterà i progetti, questi soldi torneranno al mittende e a vantaggio delle altre regioni, perché ovviamente verranno ripartite nei loro confronti. Al danno si aggiunge la beffa perché tra tutti gli enti che ho interpellato con il mio accesso agli atti, almeno uno mi ha risposto, tra i cinque consorsi di bonifica, destinatari sono consorsi di bonifica e comuni, uno mi ha risposto ed è il consorzio di bonifica Ovest, che mi ha detto che un progetto c'è, immediatamente esecutivo e cantierabile, da circa 2 milioni di euro e che opererebbe una manutenzione straordinaria nella rete di canalizzazione all'interno del Fucino, manutenzione che sarebbe la prima da quando praticamente Alessandro Torlonia ha realizzato quelle opere. Un'opera necessaria che miticherebbe ed eliminerebbe molti dei problemi che annualmente, proprio di questo periodo, l'agricoltura subisce con gli allagamenti e i conseguenti danni, in un contesto che produce il 40% del pillo agricolo e che purtroppo non riceve la minima attenzione da parte di Regione Abruzzo. È qualcosa che come abruzzesi noi non possiamo assolutamente accettare.